Ring, buonasera ben ritrovati in diretta come anticipato oggi nei nostri telesornali e via web siamo insieme al sindaco Roberto Cusolini, buonasera ben trovato. Allora ho tante cose da chiederle ovviamente, anche perché adesso possiamo dire o no che non ho capito, siamo entrati in campagna elettorale a Trieste o no? Beh la campagna elettorale inizia più avanti, diciamo che siamo già entrati in una fase che in qualche modo possiamo definire di pre-campagna. Di pre-campagna, lei cosa ci ha capito? La faccio entrare subito nel campo opposto, che stanno facendo gli altri? Cosa ci ha capito? Centrodestra intendo dire, centrodestra non grillini o altri schieramenti. Da quel che si è capito Salvini e Berlusconi hanno dato il loro benestare alla candidatura di Di Piazza. Mi pare che poi su questo benestare siano subentrate le difficoltà di tenere assieme tutti che già si intuivano prima. Anche perché la sensazione è che forse anche altre componenti del centrodestra avessero fatto una proposta di Piazza in qualche modo quasi di un rinnovamento civico del centrodestra. E quindi di una candidatura che fosse all'insegna della discontinuità. Mi pare che invece lui abbia chiaramente raccolto in questo senso il benestare di Salvini e di Berlusconi. Quindi di due leader nazionali rispettivamente di Lega e di Forza Italia. Mi pare che ci sia ancora una discussione che potremmo definire serrata. Ma non entro evidentemente molto in casa ad altri. Immagino che prima o dopo avremo le candidature, le coalizioni e i programmi. E a quel punto inizierà il vero e proprio confronto. Però se dice le candidature vuol dire che ci sarà qualcun altro allora? Perché diciamo il nodo è la lista civica. Le candidature intendo, comprese tutte le candidature, quindi anche quelle dei 5 Stelle e delle altre forze politiche che eventualmente schiereranno dei candidati sindaco. Credo che una vera e propria campagna inizia quando è chiaro il quadro di chi c'è, con chi è e cosa propone. Fino a quel momento evidentemente siamo in una fase ancora che potremmo definire di preparazione e per certi versi di schermaglie. Di schermaglie. Secondo lei quindi è un conflitto, se c'è un conflitto che si può definire così, con la dirigenza locale? Che addirittura annuncia, annuncia no perché sono più che altro voci, però in particolar modo la Lega Nord che starebbe cercando addirittura un altro nome. Per unire la fucina che abbia un altro candidato sindaco addirittura perché evidentemente non sono piaciute alcune dichiarazioni o uscite o comparsate di... Ma guardi, francamente... Che è nato da Passero, non si è smarcato da Alfano. Francamente credo che Di Piazza abbia piuntato sulla sua capacità di far stare d'accordo tutti semplicemente perché c'è Di Piazza. Evidentemente alcuni nodi che poi sono i nodi che hanno portato anche alla crisi in qualche modo storica del centro-destra di Trieste e che riguardano anche diversità profonde che vi sono su alcuni temi. Penso a Porto Vecchio immagino. Porto Vecchio per dirne uno, rendono in qualche modo questo percorso più difficile nel senso che le ragioni che hanno portato a queste divisioni evidentemente non sono superate, non sono del tutto superate. Rimangono, se poi troveranno la quadra evidentemente non starmi oggi prevederlo. Oggi la situazione è questa. Poi mi dirà, l'ho già detto più volte, anzi glielo chiedo, ha sempre sostenuto Di Piazza è battibile, sarebbe una bella sfida, insomma a lei piacerebbe questa sfida con Roberto Di Piazza? Guardi, io come ho sempre detto rispetto Di Piazza, rispetto tutti i candidati e rispetto credo che sia un requisito che mi contraddistingue in senso generale, rispetto Di Piazza come un avversario impegnativo perché sicuramente una sua empatia è una buona immagine perché ha potuto galleggiare sul periodo di vacche grasse, quindi sul periodo in qualche modo di risorse, in assenza della crisi eccetera, sicuramente lo rende un candidato impegnativo, un candidato serio, dopodiché non ho paura di Di Piazza così come non ho paura di altri candidati. Da sindaco mi dici una cosa, quando lui sostiene che questa amicizia, definiamola così, con Angelino Alfano conviene anche da un punto di vista dell'amministrazione, cioè dovesse esserci queste sue parole, di nuovo un'emergenza accoglienza alzerebbe il telefono, è così? Quando uno amministra e ha vicinanza con un ministro è fondamentale? Ma guardi sta cosa che si alza il telefono e si risolvono tutti i problemi alzando il telefono sulla base dell'amicizia personale, mi permetta di dire che è un po' una leggenda, ecco io credo che non esistano queste soluzioni sbrigative, il resto di Piazza ci ha, come dire, abituato anche in passato a queste semplificazioni, la stessa affermazione, due muratori e un carro di mattonia risolvevo il silos, allora paradossalmente se non ci fosse stato il silos ci sarebbe stato quello che è successo a Gorizia, a Ettore Romoli o a Udine a Furionsel, ovvero i profughi sotto i portici della città in riva Lisonzo, noi li avremmo avuto probabilmente sotto i portici del municipio oppure che cercavano di dormire in tergesteo, il silos è stato evidentemente lo sfogo di quell'extra capacità di contenere, ma gli arrivi ci sarebbero stati lo stesso di fronte a un muro di mattoni o avrebbero sfondato il muro oppure li avremmo trovati in giro per strada, quindi certe semplificazioni secondo me su problemi così seri è meglio lasciarle stare, del resto se di Piazza conta su Alfano per risolvere i problemi dell'immigrazione dovrà spiegare a Salvini, a Fedriga, a Roberti e così via dicendo, che condivide sostanzialmente il percorso del governo e questa mi sembra un'altra contraddizione difficile da sciogliere così come quella di Porto Vecchia. E diciamo che è quella che appunto sta vivendo il centrodestra negli ultimi giorni dopo questo annuncio a metà di Roberto Di Piazza, questo è quello che almeno ci abbiamo capito fino ad adesso. Le faccio un esempio che in qualche modo riguarda la politica estera, la scorsa settimana, il giorno in cui è arrivato Salvini, c'era anche una conferenza di Franco Frattini, già ministro degli esteri del governo Berlusconi al MIB, l'idea di politica estera e di Europa che veniva fuori dalla conferenza di Frattini e l'idea di politica estera e di Europa che viene fuori da Matteo Salvini e non entro in giudizi di valore, semplicemente constato sono assolutamente agli antipodi, sono sideralmente lontane. Ora di fronte ai gravi problemi non si mette tutti quanti assieme con una pacca sulle spalle, i gravi problemi richiedono scelte e le scelte in qualche misura evidentemente si fanno e a seconda del tipo di scelte che fai c'è chi le condivide e c'è chi non le condivide. Mi dia una risposta non da politico, quindi cosa vede di là? Come finirà secondo lei? Non faccio previsioni. Quindi mi ha dato una risposta da politico? No, non faccio previsioni in questo momento perché io voglio ritenere che se Di Piazza ha manifestato in modo così deciso, io credo che Di Piazza alla fine sia in campo, poi sia in campo con chi, evidentemente oggi non mi ha dato di sapere. Esatto, quindi magari potrebbe essere quel progetto civico con la sua lista e chissà cosa faranno le altre forze. Da voi invece, nell'ultimo giorno abbiamo raccontato di un po' di mal di pancia, soprattutto sul tema della città metropolitana. Ora le faccio rascoltare anche l'intervista di Marco Toncialli, il capogruppo, ma cosa mi dice prima? Quali sono stati gli effetti? Cosa sta succedendo? Normale dibattito? Allora guardi, da noi c'è una coalizione che si è riunita ieri e che sabato fa una conferenza stampa e presenta quindi l'inizio del percorso della coalizione. Quindi la coalizione è... Quindi, Partito Democratico, SEL, Cittadini, Trieste Cambia e l'Unione Slovena, Zvomeska Skupno. Trieste Cambia e i cittadini fanno una lista unica? Ma questo lo decideranno loro. Io faccio il candidato sindaco, oltre che il sindaco in carica, le assicuro che è già abbastanza faticoso. E conseguentemente partecipo nella misura in cui posso, mi viene chiesto alle dinamiche delle varie forze, quel che mi interessa è un percorso in cui la coalizione mette dei punti fermi. Uno di questi punti fermi sarà anche la città metropolitana. Ci sarà una lista città metropolitana? No, uno dei punti fermi del programma della coalizione riguarderà il tema della città o dell'area metropolitana, che dir si voglia. Quindi questo tema, sul quale io del resto mi sono espresso chiaramente un anno fa, non l'ultima volta un anno fa, ma nemmeno la prima volta un anno fa, nel programma della coalizione ci sarà. Le faccio sentire Marco Toncelli, capogruppo del Partito Democratico, che cosa dice? Il Partito Democratico vuole portare avanti il progetto della città metropolitana, però sembra che stiamo assistendo a rimandi, a prese di tempo, come se non si volesse mettere in campo nessuna azione. A me piacerebbe che il mio partito, al di là delle prese di posizione o delle dichiarazioni di facciata, prendesse veramente una posizione forte e inequivocabile. Se il mio partito è a favore del progetto della città metropolitana, perché ha creato tanto malumore la raccolta di firme assieme agli altri 26 consiglieri comunali? La mia iniziativa è volta unicamente ad aprire un dibattito serio sulla prossima campagna elettorale. Se vogliamo rispondere con una battuta, non esiste la corrente russiana, che suona anche male. Esiste casomai la corrente metropolitana. La questione non sono le mie dimissioni, delle quali posso portare anche una documentazione in occasione della prossima direzione provinciale. Come Renzi è andato in Europa a spiegare che ci sono delle posizioni che non penalizzano l'Italia, ma possono penalizzare la comunità europea tutta. Noi ci aspettiamo della stessa maniera che il sindaco, il segretario provinciale, il segretario regionale del Partito Democratico vadano in regione, vadano dei consiglieri e spieghino che il progetto della città metropolitana non è un progetto che aiuta solo Trieste, è un progetto che aiuta tutta la regione, in particolare aiuterà anche il Friuli. Allora, così Marco Toncelli, poi va avanti anche il resto dei richiesti. Ha scoperto chi ha chiesto le dimissioni? No. Il suo capogruppo, no? No, no, francamente non l'ho scoperto, non mi pare che ci sia stata una richiesta di dimissioni da parte della segreteria, questo è stato chiaramente smentito. Vede, il tema che solleva Toncelli è un tema vero, però ha bisogno di una cosa diversa dal prendertempo, che però si chiama costruzione delle condizioni concrete. Allora, qui siamo... Se votarla entro un anno, come dicevano loro, il Consiglio Comunale è possibile? Il Consiglio Comunale può anche votarla entro un anno, quando il Consiglio Comunale l'ha votata, non è che è nata la città metropolitana, come lei sa bene, c'è un percorso evidentemente sancito in parte da una legge regionale ormai un po' datata rispetto all'impostazione successiva del Dario, ma io vorrei farle un esempio, qui siamo nella sede di una televisione privata, no? Allora, se io un giorno dico voglio fare una televisione, esprimo un obiettivo che è evidentemente un obiettivo che dichiaro chiaramente. Dopodiché io per fare una televisione ho bisogno di avere delle frequenze, di avere degli studi, di avere del personale, si chiamano giornalisti, si chiamano operatori, si chiamano personali di segreteria, di avere un bilancio di risorse, ho bisogno cioè di costruire delle condizioni. Se io voglio fare la città metropolitana, la devo fare? Innanzitutto aggregando attorno a questo progetto, sulla base di obiettivi e oggettivi elementi di integrazione, che possono essere di tipo economico, riguardare lo sviluppo, le reti di servizi, un territorio. Allora dirci fra di noi a Trieste che vogliamo la città metropolitana, serve a poco se poi ce la cantiamo e ce la suoniamo. Quindi loro stanno forzando i tempi? No, io le sto dicendo semplicemente che il lavoro che noi abbiamo fatto con una serie di incontri in Consiglio Comunale, Toncelli ha partecipato nel comunicato dell'altra settimana, li ha anche citati, quindi citandomi, quindi in qualche modo mi pare fosse un percorso condiviso, è finalizzato a capire a quali condizioni, in che tipo di territorio, con che tipo di percorso economico istituzionale si fa la città metropolitana. La politica sicuramente nell'epoca della comunicazione in cui siamo entrati vive molto di annunci, di immagini, di tweet, anch'io uso i tweet come lei sa perché ogni tanto anche ci interfacciamo, ci tweetiamo, però dopo alla fine la politica ha bisogno anche di robusti percorsi di approfondimento di fattività. Senta, allora dietro questa forzatura, di là delle mosse che portano chiaramente, chissà, la creazione di una lista in suo appoggio, non lo so, di un'alterativa, questo non lo sappiamo, c'è però una richiesta forte nei suoi confronti, di una decisione, diceva di una presa di posizione forte, diceva Toncelli, però è vero che la mette in qualche maniera in difficoltà perché sappiamo che la Seracchiani non ha appoggiato questo progetto, questa idea, lo ha fermato subito anche il senatore russo andando un po' allo scontro, la mette in difficoltà sta in mezzo, no? Guardi, io non mi sento assolutamente messo in mezzo nella misura in cui l'ho detto prima che il tema metropolitano sarà nel programma che insieme alla coalizione costruirò. Crede che si debba rimettere da capogruppo Toncelli? Assolutamente no, assolutamente no, io credo che sia stato anche sbagliato il gesto di rimettere il mandato, Toncelli è stato eletto dal gruppo e conseguentemente risponde al gruppo, se anche qualcuno a titolo individuale gli avesse detto una cosa di questo tipo, sarebbe come se il sindaco, letto dai cittadini, incontra a Varino che gli dice dimettiti e il sindaco rimette il mandato perché il gruppo ha fiducia nel capogruppo, io personalmente ho fiducia in come il capogruppo ha operato, possiamo vederla diversamente non sull'obiettivo ma su come si costruisce questo obiettivo, del resto si dice spesso che la diversità è una ricchezza, vediamo di considerarlo. Questa rischia di essere una diversità diciamo poi appunto anche ai capogri elettorali, poi sono le manovre di avvicinamento quindi vediamo se anche questo dibattito rientra nell'alveo poi della candidatura, come ha detto quindi SEL, Tereste Cambia e Cittadini, vi presenterete sabato, non avete parlato con il senatore russo se fa o meno una lista in suo appoggio appunto non so, Tereste Metropolitana? Il senatore russo con cui per intenderci io mi sono anche questi giorni diciamo così sentito a distanza con messaggi e abbiamo un appuntamento sabato, è un senatore... Prima o dopo la conferenza stampa? Prima, è un senatore del Partito Democratico, eletto come capolista nelle liste del Partito Democratico. Sarà candidato però il Comune? No, ma voglio dire, non credo francamente che ci siano all'orizzonte progetti politici diversi dalla sua appartenenza al Partito Democratico di cui è un senatore, di cui è un dirigente importante, evidentemente su questo abbiamo capito che ci sono state, non ti le far finta, no? Cioè non è che possiamo giocare e dire... no? Ecco, è chiaro che ci sono delle diversità soprattutto rispetto al metodo, no? Più che all'obiettivo sul quale il Partito Democratico si è già espresso, sul metodo ci sono delle diversità, ma credo che queste diversità devono andare a un chiarimento politico, credo che il chiarimento politico ci possa essere, con l'obiettivo... Non credo ci siano progetti alternativi al Partito Democratico, ha detto del senatore russo. Ma lo scludo, ma lo scludo, dai. Cioè non pensa che lasci il partito. Ma scherziamo, ma scherziamo. Quanto le darebbe fastidio una candidatura a sindaco di Fabio Omero? Ma con Francesco abbiamo fatto, mi lasci finire prima, abbiamo fatto insieme, tutti quanti noi, abbiamo fatto battaglie politiche che ci hanno consentito di ottenere risultati fino a qualche anno fa impensabili in questa città e continueremo su questa strada. Quanto le darebbe fastidio una candidatura di Fabio Omero a sindaco con una parte della sinistra, ora forse non più vicina a lei? Ma guardi che io stima per Fabio Omero, se io non avessi stima per Fabio Omero, Fabio Omero non sarebbe diventato nel 2011 assessore, su questo io voglio essere molto chiaro. Certo, ma poi non l'hai più stato assessore? Non è più stato assessore perché io ho ritenuto, poi evidentemente penso di aver avuto ragione, potrei anche aver avuto torto, no? Ecco, a me toccano evidentemente delle responsabilità di certe scelte, le svolgo fino in fondo e me ne assumo le responsabilità. Ho ritenuto che rispetto a quelli che erano le esigenze di una forte azione di indirizzo di politica economica del Comune, che se vogliamo è un po' fuori da quelle che è l'attività amministrativa del Comune, ma nella fase di crisi in cui noi eravamo entrati, ci volesse un assessore e lo sviluppo economico dalle caratteristiche diverse da Fabio. Forse a conti fatti quello che posso dire è che tornassi indietro al 2011, alcune cose bisogna dirle anche onestamente, proporrei a Fabio un assessorato diverso da quello dello sviluppo economico, ma è una scelta che abbiamo condiviso all'epoca. Piuttosto che perderlo dalla giunta, lei dice. Certamente, perché la scelta è stata una scelta comunque difficile, comunque dolorosa, di cui mi assumo ovviamente la responsabilità, ma che non comporta alcun venir meno di stima da parte mia nei confronti di ciò che Fabio ha fatto. È pericoloso dovesse candidarsi sindaco a sinistra? Possibile, impossibile. Ma guardi, il problema non è se Fabio Omero è pericoloso, il problema è che evidentemente ci sarà una lista alla sinistra, diciamo così, in posizione antagonista, ma non basta avere l'antagonismo al PD o al centro-sinistra, diciamo, che si ricandida a governare, perché quella lista rischia di mettere assieme situazioni talmente diverse anche lì, in cui il minimo comune denominatore non può essere semplicemente essere contro le politiche renziane, se poi sul per, quando si passa dal contro al per, ci sono distanze siderali. Sì, tra Fabio e Rifondazione c'è una distanza siderale. Senta, lì potrebbe essere il Stock Furlanici il candidato. Senta, ho tantissime cose, la devo anche lasciare tra poco perché so che ha altri impegni e presenteremo gli ospiti in studio tra pochissimo. A letto di Dabora Seracchiani, noi l'avevamo visto, raccontato ormai più di un mese fa, quando c'era un'occasione a Opicina, avevamo visto che era affiancata dalla scorta e ora riportato anche dagli altri organi di stampa. Cosa ne pensa il fatto che sia sotto scorta, Presidente? Penso che se certe misure vengono decise, considerato che chi ne è oggetto le vive evidentemente anche come una forte limitazione della libertà personale, ci sono a monte ragioni che le giustificano. A lei? È mai capitato di essere sotto scorta? No, di ricevere minacce. La minacce, cosa vuole? Le figure pubbliche minacce le ricevono evidentemente, credo un po' tutte, poi sta alle forze dell'ordine e ai corpi dello Stato che questo lavoro lo sanno fare, pesare quali sono le minacce, le minacce in qualche modo che presentano un pericolo sostanziale. Lei ha segnalato qualcosa? Assolutamente sì. Cosa è successo? Posso chiederle? Ma guardi, ci sono lettere anonime, ci sono cose che come lei sa vanno spesso sui social, su Facebook o su YouTube, sempre in forma anonima. La rete è diventata del resto un formidabile strumento di esaltazione e di esasperazione grazie anche all'anonimato di forma in qualche modo di rabbia e spesso anche di stigazione nei confronti di persone dallo scarso equilibrio, cioè qui ci vorrebbe un maggior senso di responsabilità da parte di tutti nell'usare certi strumenti di comunicazione, nell'usare certi linguaggi che magari nelle intenzioni di chi li usa sono semplice aggressività verbale, ma che poi diffusi in modo incontrollato arrivano evidentemente a persone che per la loro fragilità o per il loro non equilibrio possono anche indirizzarli in modo sbagliato. Io cammino per strada come si vede ogni giorno. Senta, Renzi viene o no? Quando? Ma guardi, io penso che il Presidente del Consiglio verrà a Trieste e io francamente per le vicende importanti che abbiamo in piedi e che vedono un'interlocuzione forte del Governo sarei soprattutto contento che lui venisse da Presidente del Consiglio evidentemente per atti istituzionali che riguardano questo territorio. Per esempio? Per esempio vedremo al momento opportuno. Eh, mi sta dando una notizia. No, non le sto dando una notizia, le sto facendo venire voglia di avere una notizia più avanti. Vabbè, speriamo di non leggerla ad altri. Senta, Via Cumano lo avevamo visto giusto, c'è qualcosa, c'è qualche movimento, si stava allestendo questo possibile hotspot, hub? Guardi, allestimenti... Perché Torrenti dice una cosa differente. Di allestimenti noi non siamo a conoscenza, noi sappiamo che quella era una soluzione che a suo tempo era stata presa in esame dalla Prefettura, ma io voglio essere chiaro soprattutto su un punto, cosiddetti centri di prima accoglienza, un centro di prima accoglienza, c'è un luogo dove le persone vengono fatte dormire la prima notte, le prime due notti mentre c'è la presa in carico, c'è bisogno, ma secondo me in termini sostitutivi eventualmente rispetto ad attuali strutture, cioè secondo me non può crescere il tetto già pesante che in qualche modo ci troviamo a dover sostenere adesso. Quindi direi non c'entri in più. Se si considera non idonee a svolgere la funzione di prima accoglienza qualcuna delle attuali strutture e se ne trova una più idonea, bene, vorrà dire che si libererà qualcuna di queste strutture. Però l'impressione che poi diventi non un centro di indicazione. Non si può continuare a crescere, io resto nella posizione che ho espresso chiaramente più volte, ribadito anche recentemente, ribadito anche a cavallo di fine anno quando per evitare l'emergenza freddo a quelli che stavano al Silos li ho spostati per alcuni giorni a Chiarbola grazie al fatto che Chiarbola era chiuso. Bisogna che i trasferimenti via da Trieste compensino abbondantemente gli arrivi. Questo è un impegno che secondo me Governo, Prefettura e Regione devono mantenere perché non si può stressare le città e le comunità più esposte mentre altri continuano a non fare il proprio dovere. Due cose ancora velocissime. Triestina cosa spera? Ma guardi, Triestina, come ho detto, amarezza e liberazione. Amarezza perché evidentemente un fallimento è sempre una cosa triste. Liberazione perché non se ne poteva più. Di Bontrelli o di questo. Di questa manfrina, vendo, non vendo, venduto, vendo a zero ma poi in realtà chiedo soldi e così via dicendo. Non se ne poteva più. Oggi è il momento in cui si possono presentare, e mi pare che ce n'è più di qualcuna, cordate serie. Perché ho la sensazione che quelli veramente seri non si prestassero a quel tipo di gioco e di trattativa. Oggi hanno un interlocutore e il curatore fallimentare. Ci sono come noto anche le condizioni che consentono il salvataggio del titolo sportivo che verrà conseguito alla fine dell'anno. Evidentemente io credo proprio che ci sia la possibilità, perché tra queste manifestazioni di interesse magari si potrebbe anche cercare di mettere insieme qualcuna per evitare che si contrappongano. Cioè Vascotto, Milanese, le dice qualcosa del genere? Guardi, io so che si sono parlati, evidentemente. Siccome se qualcuno poi è in grado evidentemente di fare tutto quanto da solo e di sostenere tutto l'onere da solo, sappiamo che sono le soluzioni gestionalmente più semplici, perché più persone metti assieme, più la governance diventa complessa. Se però si può fare squadra perché c'è bisogno di farlo assieme per garantire quella solidità e quella solvibilità, ben venga l'essenziale, essenziale è che sia evidentemente un progetto serio. E' un progetto serio e noi daremo fiducia nuovamente con lo stadio. Quanto è realizzabile quel progetto di Vascotto secondo lei? Guardi, io ne ho parlato più volte con Vascotto, io trovo che ci sia un'intuizione che anche per le ricadute che può comportare in qualche modo le retrocessioni ai commercianti, cioè la cosa è costruita secondo me con una certa capacità innovativa, non è un progetto impossibile, è un progetto complesso che ha bisogno dei suoi tempi. Ma il commerciante ci sta, perché è lui che in sostanza perde qualche soldino. Il commerciante perde ma poi recupera in qualche modo, può recuperare dal marchio, può recuperare da omaggi per i propri clienti, quindi da un'azione di marketing, può recuperare evidentemente da una crescita del numero dei clienti, ha bisogno di tempo, non è un progetto che risolve un problema triestina. Ferriera che fate? Allora vi trovate, lei aderisce, vengo io a lei, insomma come questo gioco? Oggi non ho avuto tempo di scrivere materialmente, perché è stata una giornata molto faticosa, ma domani io scrivo ai rappresentanti di questo comitato, invitandoli all'incontro preliminare nel quale definire evidentemente le modalità di prosecuzione del confronto, evidentemente che devono essere modalità che rispondano alle loro esigenze, o meglio alle esigenze di cittadini che vogliono chiarezza e che contemporaneamente mettano chi va lì, in questo caso il sindaco ad avere tutti gli elementi per dare la chiarezza che viene richiesta, quindi li inviterò. Sì, per evitare che diventi diciamo uno scontro, lei intende anche, che sia un contro... Ma che non servirebbe a nessuno. Senta, oggi è arrivato, credo lo abbia visto, ne abbiamo dato notizia nel telegiornale, un comunicato da parte di Siderurgica Triestina, per la prima volta la proprietà, il gestore risponde parla con i cittadini che sono gli stessi andati in piazza, guidati da questo comitato il 5 dicembre, a proposito pensa che diventerà una sorta di lista, che abbia uno sfogo politico. Ma i promotori lo scludono e io credo che perderebbero molto del seguito che hanno, che hanno guadagnato con parole d'ordine che stanno a cuore i cittadini se lo facessero. Vede, oggi c'è il comunicato di Arvedi. Che dice i dati sono in miglioramento e tutto il resto, però le faccio subito una domanda, da Benzopirene manca in realtà, non ci sono ancora i dati di dicembre, PM10 già a gennaio a Servola, certo c'è l'inquinamento, lo smog in tutta Italia, lo smog oggi grazie di Cerabora, però siamo già arrivati a un terzo degli sforamenti previsti, per quanto riguarda il PM10 in un anno. Certo, certo. Quindi? Allora, Benzopirene è evidente che l'impianto che ricordo è ancora parzialmente in funzione, perché fin tanto che non vi è insonorizzato il suo funzionamento notturno è limitato, è evidente dal confronto tra i dati dei primi sette mesi e i successivi quattro mesi che aspira, perché noi passiamo da una media di uno e mezzo nei primi sette mesi, ricordo che era 6,7 nel 2008, perché molti non lo ricordano, forse non lo sanno questo, ha una media di 0,6-0,7 nei successivi quattro mesi e quindi poi potrà oscillare, un mese può salire, un mese può scendere, ma io credo che si stabilizzerà definitivamente anche a San Lorenzo in Selva sotto l'1 su base annua nel 2016 e che i primi mesi del 2016 fotograferanno questa direzione. PM10 hanno bisogno di un arco temporale più lungo per essere valutati, perché se lei guarda i primi 22-23 giorni di gennaio ha avuto un solo sforamento, se lei guarda l'ultima settimana di gennaio su 7 giorni ce l'ha avuto per 7 giorni, erano anche i giorni in cui si sforava a Udine, a Gorizia, a Pordenone, a Monfalcone, allora non è che se adesso per una settimana c'è vento e i PM10 a Servola sono tutti sotto i valori del 50, vuol dire che il problema è risolto, quindi credo non possiamo usare nei dati troppo negativi, nei dati troppo positivi che dipendano da condizioni meteorologiche, abbiamo bisogno di un dato assestato su 3-4 mesi per dire se le PM10 stanno progressivamente diventando un non problema. Quindi questo incontro del Comitato 5 dicembre si farà, senta ultimissima cosa, torno al Partito Democratico, cosa vi insegna la sconfitta se la vuoi definire così, non lo so, diciamo il caso Muggia, cioè il SEL nelle primarie di centro-sinistra batte Valentina Parapat, candidata del Partito Democratico, anche lì si è detto che non si è scelto De Colle che era più vicino a Russo, insomma anche lì sono state ricostruzioni di gossip democratico, quindi avete scelto Parapat però battuta dalla candidata di SEL, è un allarme, è un campanello, cosa succede? Ma guardi non è la prima volta che succede, nelle primarie evidentemente quando la coalizione decide di andare alle primarie queste cose possono accadere, le ricordo Genova evidentemente interno e conseguentemente sono cose che vanno messe, erano due ottime candidate, Marzi non dimentichiamoci vice sindaco in carica di Neslad e che è una persona dalla direi lunga e consolidata stima diffusa presso l'elettorato, Valentina è un nome sicuramente più recente e credo che questo abbia pesato, l'essenziale è che adesso si faccia tutti quanti squadra per vincere. Senta, mense, domani loro c'è sto sciopero, praticamente non consegneranno il cibo o mi è sembrato di capire a scuola i ragazzini perché non c'è ancora una soluzione, a che punto siamo? Allora, dove sta l'errore? Cioè se arriva un'azienda e poi decide di poter fare qualsiasi cosa e quindi anche di abbassare le ore? Guardi le regole sugli appalti evidentemente sono quelle e conseguentemente non mettono la stazione appaltante in condizioni di, sicuramente la mettono in condizioni di inserire nei bandi delle griglie importanti ma in questo caso è stato fatto, questo è un bando molto diverso da quello di cui si è parlato a suo tempo ad esempio della sorveglianza degli uffici comunali, si ricorderà all'inizio del mio mandato nel passaggio da un gestore all'altro c'era stata una penalizzazione contrattuale molto pesante, questo è un bando scritto con grande scrupolo che prevede risorse adeguate, prevede la conferma del servizio e poi ci sono evidentemente delle libertà che il concorrente in qualche modo nell'organizzazione del proprio servizio può prevedere e per quel che mi riguarda è noto che li ho incontrati l'altro giorno e gli ho detto che il comune non è soddisfatto di un servizio che inizi in una situazione di clima sociale pesante che potrebbe penalizzare tra le altre cose il reddito delle persone in maniera significativa e anche la qualità del servizio e quindi li ho invitati ad un ripensamento della posizione che hanno assunto, una disponibilità al ripensamento l'ho avuta, evidentemente adesso ne attendo gli esiti. Anche il Tribunale di Mezzo. Va bene, grazie Roberto Cosolini, grazie Sindaco, buonasera ai telespettatori. Buon lavoro, adesso noi ci vediamo al servizio di Via Cumano, aggiungiamo anche questo dato al dibattito e insieme agli ospiti che vi presento tra poco analizzeremo le parole di Roberto Cosolini. Grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti, a tra poco.